Ricordate sempre che Dragon's Dogma è un RPG di stampo orientale, ergo c'è stanno delle cose che sono necessarie per poterlo giocare, appunto lo gestirsi bene le statistiche, gli accompagnamenti e compagnia. Non lo so nemmeno io come mi sono approcciato, ma dipende, tantissime persone per esempio lo droppano perché sempre avevano fatto malissimo la presentazione delle pedine, che non ti spiegano come si sviluppano, che piano piano imparano sempre da come giochi tu e si adattano a come giochi tu e tutto quanto. Infatti tu nei primi dieci minuti sono delle rincoglionite che non sanno fare niente e poi diventano delle macchine da guerra. Io in live ve l'ho mostrato tantissime volte, Oga all'inizio della proprio creata non sapeva fare un cazzo, ho preso un altro guerriero in party di un altro giocatore, quel guerriero faceva determinate azioni, lei dice ok questa roba worka e cominciava a farla anche lei. Oppure del prima volta che incontra un mostro ci gira attorno perché dice che cazzo faccio qua, io letteralmente un secondo mi aggrappo, gli dico questo è il punto debole attaccandolo, lei comincia ad attaccarlo. Infatti eravamo arrivati poi a Endgame con Oga che mi faceva i follow up, cioè gli alzavo le persone, li slemmava per terra, non mi si allontanava mai da dietro il culo perché mi parava il culetto perché ero quello un po' più schicci. Purtroppo tanto di Dragon's Dogma va capito e ci vuole del tempo perché tantissime persone neanche finiscono il prologo ragazzi, il prologo di Dragon's Dogma 1 è quando è arrivata Gran Soren, la gente si ferma quando arriva la seconda faglia, neanche che parte dio madonna. Quello apre anche un discorso molto lungo che molte volte esce in live del fatto che le persone vogliono tutto immediatamente, tutto subito, tutto repentino e per carità Dragon's Dogma i suoi problemi in quell'ambito ce l'ha. Perché se tu invece di farmi apparire uno stronzo che non sa fare un cazzo, mi spieghi il lei imparerà da te, si svilupperà, si adatterà, diventerà sempre più umana, lo capisco. Cioè devi anche spiegarmi le certe cose. Però dall'altra parte ci stanno anche le persone che vedono una roba, giocano 5 minuti e l'abbandonano. Che rientra sempre in quella cosa del tu devi dare anche degli input al gioco. Se a me mi fa cagare FIFA, non vado a giocare FIFA. Se io però mi approccio a FIFA, io non mi posso aspettare a COD. Cioè io devo dare degli input al gioco, devo provare a fare delle cose, devo provare a dare anche un attimo a braccetto con il gioco. Perché se tanto io voglio una roba che là non troverò, è inutile che sto là. Con Dragon's Dogma è la pazienza, il finire almeno il prologo, il vedere la pedina che già comincia a fare le sue prime cose, le sue prime abilità, i suoi primi comandi e compagnia. E piano 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 va avanti, anche se c'è uno spike di difficoltà molto elevato. E piano 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 piano